Ciao, sono Lorenzo Ducati, gioco nella categoria under 14 come ala sinistra, ho voto anche terzino. Oggi abbiamo giocato abbastanza bene contro l'Oriago, Udi Sparco Ballino. Non ricordo, so solo che ho fatto tre gol. Sì, eravamo in billico, stavamo per vincere. Dopo la strigliata del mister siamo riusciti a rimontare e fare anche un buon risultato. Sì, sempre 9-10 gol di differenza. Sì, è stata una buona partita dal punto di vista tecnico. Poi ci sono stati tanti errori, come tanti falli dati male. Sì, la difesa a volte ha fatto degli errori sia la nostra che la loro. Però in molti casi di fallo da giallo, due minuti, un episodio del primo tempo, siamo rimasti in tre in campo. Sì, è rimasto un po' estere fatto. Sì, anche secondo me. Poi non saprei che dì. È stata una buona partita. Quanti gol hai seguito a progetti? Tre. Tre gol. Tu sei alla sinistra. Sì, spero che facciamo bene in trasferta contro il Trieste questo mercoledì dall'Under 14. Adesso la prossima partita sarà? Mercoledì, questo mercoledì. Ah, subito, quindi? Sì, sì. Tre giorni? No, no, ci ho chiamato Trieste. Ah, Trieste, quindi? In trasferta sia Under 14 che Under 16. È una delle partite più difficili della... Sì, sono una squadra che è venuta bene in tutti i campionati, anche contro altre squadre. Hanno fatto bene i primi in classifica. Bene, dai. Bene. Bene. Bene.